Più che soddisfatti gli organizzatori di Cibarte a Seravezza che hanno sottolineato la crescita della manifestazione e soprattutto la qualità delle serate regalate a migliaia di visitatori provenienti da ogni dove. Si profilano infatti numeri da record per la manifestazione in versione festival. Sarà ancora possibile abbirare opere d'arte e performance di oltre 50 artisti che animeranno il centro storico di Seravezza con una grande festa a ingresso gratuito dalla bellezza e dalla creatività declinata in pittura, scultura, musica, danza, cibo e fotografia. Venerdì, primo giorno della manifestazione, ha regalato molte soddisfazioni con le vie del centro storico di Seravezza piene di pubblico, stupito dal livello delle esposizioni, sculture sospese, opere d'arte con materiali di riciclo e lo spettacolare scenario del lungo fiume tra luci e parapetti coperti con uncinetto multicolore. La novità di questa edizione di Cibart 2022 è stata l'estensione del circuito anche in via Fusca in vasa di opere d'arte e fotografie.